Ciao ragazze, un altro video outfit il tempo è brutto però oggi si sta un po' meglio rispetto agli altri giorni fa meno freddo e stiamo andando fuori a mangiare quindi ho deciso di stare un pochino più leggera di non imbaccucarmi come un eschimese come faccio di solito allora faccio vedere cosa ho messo c'è questa camicia bianca e una camicia bianca molto semplice ecco magari ha di particolare questi bottoncini e di Lujo e questa me l'hanno regalata e poi c'è questo gilet nero semplicissimo e la camicia l'ho messa dentro i pantaloni che invece sono blu fino all'ultimo ero indecisa se metterli neri però sono andata per il blu perché almeno qualcosa di meno banale meno semplice no? quindi è questo blu acceso c'è qui anche oggi allora dicevamo ci sono questi pantaloni blu acceso e questi sono di Bershka poi c'è questa cinturina nera sottile lucida questa qua l'ho presa da H&M e come scarpe ho deciso di mettere queste scarpe con davanti tutti i laci nere col tacco così poi ho deciso di mettere questa giacchina nera in similpelle questa qua ce l'ho da tantissimo tempo è veramente molto molto vecchia però mi piace indossarla ancora e poi ci sono questi orecchini blu che richiamano un po' il blu acceso dei pantaloni sapete che io sono un po' fissata con l'abbinamento i colori queste cose qui e poi ovviamente c'è come sempre lei la solita borsa poi ho deciso di tenere sugli occhiali oggi perché mi piacevano con questo chignon con la camicia il gilet e questi qua siccome molte di voi mi chiedono il modello sono di una collezione di un paio di anni fa di Giusti Cavalli modello esatto non ve lo so dire però occhiali con questa forma ce ne sono veramente tanti adesso in giro e il trucco è molto naturale molto semplice ho messo giusto un po' di matita nera mascara nero e questo gloss marioncino nude i capelli invece li ho tirati tutti su e vedete che ho fatto questo mega chignon disordinato volevo che avesse un aspetto disordinato ovviamente finto disordinato almeno spero che sembri così perché l'ho fatto apposta e basta gente non so cos'altro dirvi credo di aver finito fatemi sapere cosa pensate di questo outfit e noi ci vediamo la prossima volta ciao